M. Massimo Silva non è mai facile subentrare in corsa? Certo, però quando si viene con entusiasmo, grande voglia, quando si fa calcio, per noi andetti al calcio è sempre un grande piacere, quindi non vedo l'ora di cominciare, una piazza di tradizione, mi sembra anche una buona squadra e quindi speriamo appunto di fare bene. Ecco, non ci ha pensato su due volte quando è stato chiamato? No, no, perché conosco bene il girone, conosco molti giocatori, quindi so appunto la piazza com'è, insomma le strutture, lo stadio e poi ripeto, è sempre un piacere fare calcio, mi piace molto e ci metterò tutto l'impegno come sempre. Subito al lavoro perché domenica c'è una partita già importante e fondamentale, la San Giustese. Sì, certo, partite sono tutte importanti, però questo ancora di più, è il mio esordio, ma anche la squadra deve ritrovare il risultato a tutti i costi, quindi ci mettiamo subito al lavoro cercando di ottenere gli obiettivi che ci siamo prefissati. passiamo alla fine. Grazie a tutti.